Amici agenti immobiliari, popolo di mediatori, oggi sono qui con un caro amico Alessandro Cedroni che ho il piacere di conoscere da tanti anni e che ha collaborato con me Francesco Bersani alla stesura del libro I segreti del web marketing immobiliare il quale è uscito è uscita proprio a novembre la seconda edizione Alessandro dopo sei anni nel mondo del web che viaggia è un'era geologica per cui abbiamo sentito l'esigenza di rimetterci le mani ecco Alessandro è un social media manager, diceva Don Abbogno nei Promessi Sposi carneate chi è costui, io ti faccio la domanda chi è sto social media manager? Guarda questa è una domanda che mi fanno in tanti, anche i miei genitori non sanno quello che faccio come mestiere. La figura del social media manager è una figura nuova nata soprattutto in questi ultimi dieci anni ed è collegata ovviamente da come dice la parola stessa soprattutto alla diffusione dei social network e quindi oggi all'attività di marketing che si fa sui social network. È una figura che si è anche evoluta nel tempo, quando ho iniziato io nel 2009 quando ho aperto il portale socialmediamanager.it eravamo veramente pochissimi in Italia che già lavoravano in questo settore. All'epoca Facebook addirittura ancora non prevedeva la pubblicità a pagamento, quindi l'attività del social media manager era molto legata proprio alla contenutistica, alla gestione dei rapporti con l'audience delle pagine aziendali, ma poi ecco in questi ultimi anni sono anche poi nate figure più specifiche come il content manager che è quello che oggi organizza i contenuti di una strategia di marketing e il social media manager è diventata anche, si è evoluta in una figura più anche di consulenza rispetto all'attività proprio diretta che faceva prima. Questo perché, scusami Salvatore, perché si cerca di coinvolgere le aziende e i dipendenti delle aziende nella generazione e nella gestione dei social, questo nell'interesse poi anche soprattutto delle aziende nei confronti dei propri clienti, quindi per avere un rapporto più... Del proprio mercato di riferimento. Del proprio mercato di riferimento. Ecco, secondo te i social network sono importanti in una strategia di marketing di un'agenzia immobiliare, sai che io ho a che fare con gli agenti immobiliari, quindi secondo te da social media manager quanto e se sono importanti i social media per un agente immobiliare? Sì, ovviamente come dire è una domanda un po' retorica questa perché il social network, i social media in generale sono degli strumenti, veramente come uno strumento il telefono, quindi pensare che un agente immobiliare lavori senza il telefono è una cosa come dire impensabile appunto, mentre si colloca l'utilizzo dei social network sempre in una zona diciamo marginale dell'attività lavorativa dell'agente immobiliare, ma parliamo in generale anche di altri tipi di attività imprenditoriali e di aziende. Il discorso è che invece questi strumenti sono veramente utilissimi per farsi conoscere ma soprattutto per avere un colloquio con il proprio target, in particolare per gli agenti immobiliari che lavorano nelle città, quindi hanno un rapporto diretto con il quartiere, con gli abitanti, con i residenti nella zona in cui si muovono, questi strumenti all'interno dei social network sapete ci sono le pagine aziendali ma ci sono anche i gruppi di discussione, ecco questi ambienti diventano veramente un terreno fertile, se vengono approcciati e la comunicazione viene gestita in maniera corretta possono veramente diventare strumenti di successo per ottenere contatti e poi trasformarli in clienti. Ecco, tu hai parlato di dialogo, di discussione, quindi possiamo dire che i social media sono uno strumento di marketing conversazionale e quanto è sottile il confine secondo te tra una semplice conversazione e il marketing, cioè due persone che su un social stanno parlando di un brand, di un servizio, stanno facendo marketing? Sì, il marketing, il passaparola classico, quello che gli agenti immobiliari vantano sempre come l'elemento fondamentale per il loro successo ed è vero perché quando appunto il tuo nome viene condiviso con piacere dai tuoi clienti vuol dire che hai fatto delle operazioni di successo, cioè che il tuo approccio al mercato è quello giusto. Ok, allora oggi questo passaparola non è più quello tradizionale, diciamo offline, ma grazie ai social network il passaparola è molto più veloce e la diffusione è anche più capillare. Che succede? Succede che se noi non siamo presenti comunque qualcuno starà parlando di noi perché se devono farvi una recensione negativa spesso la gente si sfoga sui social network anche facendo dei post così però estemporanei, hanno avuto una brutta esperienza dal negoziante e vanno subito a sfogarsi sulla loro bacheca. Ecco, questo se noi, se gli agenti immobiliari, se chi lavora sui social per fare marketing è presente riesce a gestire anche le critiche ma anche i complimenti ovviamente e in più è un canale più veloce per entrare in contatto con le persone come dicevamo prima, può sostituire in alcuni casi anche il fare zona, no? O il customer care. Esatto, esatto. Per tante aziende infatti lo usano anche come servizio clienti ma diciamo che ecco quello che poi abbiamo sviluppato sul libro e sui corsi che facciamo sul social media marketing, gli strumenti che noi cerchiamo di dare agli agenti immobiliari riguardano soprattutto la capacità e le strategie per iniziare un rapporto, quindi per aprire delle conversazioni che devono poi trasmettere ovviamente fiducia nell'agente immobiliare e nel suo lavoro. Ecco, ma secondo te i social media, ovviamente anche questa è una domanda retorica, però è bene approfondire un attimo questo argomento, no? Sono strumenti diversi dai portali? Come vanno usati? Come un portale in modo diverso? Questa è una domanda fondamentale, è una domanda fondamentale perché purtroppo non solo gli agenti immobiliari ma in generale le aziende hanno ancora difficoltà a capire che questi strumenti non sono i canali classici della distribuzione dei messaggi pubblicitari, nel senso che se noi pensiamo al social network o alla pagina facebook della vostra azienda come un'ulteriore bacheca dove andare a mettere gli annunci sappiate che state sbagliando l'obiettivo, siamo completamente fuori strada. Questo perché? Perché chi sta sui social network cerca soprattutto un'interazione, cerca oggi i social network diventano social media, anche lo stesso facebook sta cercando di trasformarsi in un canale di distribuzione di informazioni. Quindi noi stessi, noi che facciamo marketing dovremmo essere in grado di innanzitutto dare informazioni di valore anziché sparare spot pubblicitari che poi annoiano il vostro pubblico e fanno togliere il like alla pagina poi, se vogliamo proprio essere concreti. Quindi insomma c'è tutto un lavoro dietro, da quello che tu dici, bisogna avere una strategia, un canale sempre aperto di comunicazione, spesso quando dico queste cose in aula c'è sempre qualcuno che mi fa la domanda, dice ma se io devo fare tutto questo? Poi il lavoro mio. Il lavoro mio chi lo fa? Chi secondo te dovrebbe gestire il profilo o la pagina social di un'agenzia immobiliare? Allora come appunto avevamo detto all'inizio la figura del social media manager può essere una figura appunto esterna che faccia un po' da coordinatore, da consulente per chi lavora in agenzia. Diciamo che lo scenario ideale è proprio questo, dove chi lavora dentro un'azienda sia anche partecipe dell'attività, quindi debba conoscere come si usa lo strumento non solo a livello tecnico ma soprattutto a livello contenutistico. Oppure appunto si può assumere un consulente esterno che con un rapporto continuo con l'azienda possa comunque curare questo tipo di strategia di comunicazione. Anche perché scusa ma la quantità, quanti post e con quali frequenze ad esempio bisognerebbe pubblicare secondo te su una pagina social per renderla attiva, viva? Diciamo che anni fa l'algoritmo di Facebook richiedeva una frequenza maggiore di postaggio, cioè di pubblicazione di contenuti, potrebbero essere testi, foto, video. Oggi invece il ciclo, da alcune analisi che fanno poi i vari ricercatori, il ciclo vitale di un post si aggira intorno alle tre ore. Ma ci sono anche aziende, brand che fanno tre pubblicazioni a settimana. Questo perché comunque si focalizza meglio il messaggio, non si stanca l'audience con messaggi pubblicitari. Vi faccio un esempio ma penso che tutti quanti quelli di voi che sono già su Facebook avranno fatto il like almeno a mediamente 2000 pagine a testa. Quindi la pagina simpatica, la pagina della squadra di calcio, la pagina della città, tutte queste pagine alla fine se voi andate a controllare sul vostro profilo io credo che nemmeno sappiate effettivamente a quanti siete collegati, esatto. Quindi immaginate 2000 pagine che vi piacciono più i vostri 500, 1000 amici, 2000 amici, l'algoritmo di Facebook aveva necessità nel tempo di essere diciamo aggiornato. Quindi alla fine i contenuti che passano di più sulla vostra home, sul vostro feed sono quelli che secondo questo algoritmo di Facebook diventano più rilevanti. Maggiore engagement, i mi piace, i commenti, le condivisioni, questi diventano elementi fondamentali per dare visibilità a quello che fate. Quindi come dicevamo meglio concentrarsi magari su tre post a settimana ma preparati a puntino che non stare a postare ogni tre minuti. A proposito di questo mi viene in mente di chiederti perché tre post a settimana su Facebook ma dei social ne esistono tantissimi ogni giorno ne salta fuori uno nuovo, insomma l'ultimo è Snapchat ma probabilmente non... Instagram, Twitter... Ecco volevo chiederti, secondo te è necessario che un agente immobiliare visto anche il tempo che ha sia presente su tutte le piattaforme social? No, la risposta è no, nel senso che bisognerebbe appunto nella strategia iniziale ragionare su quali social possiamo essere più performanti. Faccio un esempio pratico, se qualcuno in agenzia è appassionato per esempio all'utilizzo di Instagram, fare fotografie particolari e quindi raccontare se stesso attraverso le immagini Instagram può essere anche uno strumento utile, mi riferisco per esempio alle agenzie in particolare che lavorano con l'estero, dove possono raccontare con immagini la città, l'ambiente agenzie che lavorano in località turistiche tipo il mare o la montagna, ecco... già Instagram per esempio può non essere proprio performante molto per chi lavora diciamo in maniera un po' più classica nei quartieri, ma anche lì insomma, poi c'è anche da mettere molto di posto, insomma, la fantasia, la credibilità... Poi diciamo quelli che riesci a seguire... Però quelli che riesci a seguire, sì perché... Se sei presente su una piattaforma ma non l'ha giorni da mesi rischi anche di avere un anno di immagini... ad esempio su Twitter che comunque non è molto utilizzato e allora lo lasci lì... Se poi c'è, diciamo, quel contatto che avviene e ti chiede un messaggio e tu non rispondi perché non lo stai seguendo, comunque hai fatto, insomma, la figura di essere poco professionale. Ecco, tu hai parlato di performance, ma come è possibile misurare i risultati sui social network? Oh, ecco, questo è un altro bellissimo aspetto del web marketing in generale, anche prima dei social, insomma, che la pubblicità su internet può essere misurata. Ovviamente non riusciamo, come dire, a misurare il pelo, però, insomma, sicuramente riusciamo ad avere dei dati e delle informazioni che con le attività classiche, che potevano essere il volantinaggio, che può essere il telemarketing, che possono essere queste, diciamo, più tradizionali, che non riusciamo a misurare. Mentre Facebook ti dà degli strumenti, Twitter ti dà degli strumenti per misurare le performance e poi ci sono tanti anche software terzi che si possono utilizzare per fare anche le comparazioni con i vostri competitor, quindi vedere il mercato come si muove, come si muovono, appunto, i vostri, diciamo, avversari, ecco, e quindi riuscire a capire come indirizzare il vostro messaggio, perché il concetto fondamentale dei social network è che non siamo più noi a canalizzare il messaggio, ma è il vostro pubblico che vi dà, diciamo, la cartina da tornasole sugli argomenti che ti interessano, su cosa vuole che tu parli e, insomma, è pubblico. Ma ci sono, secondo te, degli errori da evitare assolutamente, due, tre, che ne so? Questo proprio non si fa. Quello che non si fa è appunto postare questi annunci immobiliari freddi, secchi, che appunto sono focalizzati solo sul prodotto e non su quello che ci può essere intorno, quindi il vostro diario di Facebook non è una bacheca per gli annunci, ma questo non toglie il fatto che, insomma, gli annunci possono essere pubblicati, quindi poi nel corso o sul libro spieghiamo come poter affrontare meglio appunto questa cosa, perché i vostri prodotti sono le case che vendete, quindi è giusto farle conoscere, però è anche giusto, diciamo, porsi nel migliore dei modi con chi vi ascolta. Bene, l'ultima domanda, poi chiudiamo. Se ci sono dei comportamenti che tu consigli agli agenti immobiliari di adottare sui social network. Sì, io ho un consiglio che do, perché bisogna anche saperci stare sui social network. Bisogna saperci stare, bisogna innanzitutto essere delle persone educate, perché quando rispondete ad un commento, anche se negativo, voi non state rispondendo solo a quella persona, ma state rispondendo a tutti. L'illusione è quella, ma la realtà... Esatto, l'illusione è di rispondere solo a quello, ma nella realtà vi stanno leggendo in mille, duemila. C'è una maggioranza silenziosa. Esatto, i famosi utenti, quelli che stanno sempre lì di nascosto, che non postano, non mettono like, ma comunque ci seguono. Quindi è importante capire questo concetto, è importante far propri alcuni valori, tipo appunto educazione, rispetto, apertura alle discussioni. Quindi cercate sempre di dare risposte che lasciano aperta la discussione. Questo è una cosa che apprezzerà sia chi vi ha criticato, sia chi vi sta leggendo. È un'ottima opportunità, come dicevi tu, per ascoltare il mercato. Esatto, e poi la regola, il buonsenso, ma anche la professionalità ci spinge a creare soprattutto una strategia. Se non si crea una strategia, si va random, è difficile poi seguire gli argomenti e l'audience magari può essere un po' anche spiazzata. Se invece noi nel corso lo facciamo, diamo gli strumenti per creare questa strategia, a quel punto c'è una certa omogeneità nella comunicazione e chi sta dall'altra parte si aspetterà poi i messaggi di un certo tipo. E insomma, ecco, questo è il rapporto che poi si deve instaurare. Quello che fate per strada oggi si fa anche online. Bene Alessandro, ti ringrazio e ringrazio gli amici agenti immobiliari che hanno avuto il tempo e la pazienza di vedere e ascoltare questo video. Vi ricordo, per chi vuole approfondire, che ha la possibilità di farlo sia leggendo il libro I segreti del web marketing immobiliare che ho scritto insieme a Francesco Bersani con l'aiuto di Alessandro Cerroni e anche tanti altri amici tra cui salutiamo Alessio Beltrami. E volevo anche ricordare, per chi volesse sempre approfondire, che c'è la possibilità di farlo il 28 giugno a Roma in aula, in un corso dal vivo, via Boezio 6, parleremo proprio di social media marketing immobiliare. Una giornata intera, otto ore full immersion. Tutte le informazioni sono sul sito di Salvatore. Sì, www.formarealestate.it, lo ripeto più lentamente, www.formarealestate.it, da lì ci sono le informazioni e potete iscriversi. Iscrivervi, parleremo di tutto quello che abbiamo parlato oggi ma anche di altro che non abbiamo avuto il tempo di parlare, ma soprattutto, come dice Alessandro, faremo tante esercitazioni pratiche, quindi si uscirà da lì già con una strategia di social media marketing immobiliare. Bene, grazie ancora e arrivederci al prossimo mese con il prossimo video. Ciao! Grazie a tutti, ciao!